ciao ragazzi allora come vi avevo detto le novità ci sarebbero state delle novità e quindi niente ora vi faccio vedere cos'è la novità che è arrivata qua in casa di super turi alias conte dracula a bello allora vediamo un po opra ecco qua la nuova stazione radio cbc citizen band così come si dice del conte dracula allora vi avevo fatto vedere il mio nuovo la mia nuova postazione ecco qua ed è arrivato ed è arrivato il baracco così come si chiama in gergo il baracco che è un zodiac un baracco vecchio ma funziona bene un micro preamplificato un micro preamplificato ho sistemato che non funzionava il wattmetro con il ros che sarebbe rosmetro quello che misura le onde stazionarie di ritorno dalla dalla dall'antenna quindi la mia stazione è formata da alimentatore da computer trasformato dal baracco zodia con quattro esce 4 watt circa micro preamplificato e il rosmetro rosmetro per misurare potenza e onde stazionarie di ritorno questa è la nuova stazione nuova si nuova stazione radio di del conte dracula è conto e dracula ora vi faccio vedere per finire l'antenna auto costruita di polo che ami da un delle onde stazionarie uno a uno cioè praticamente mezzo dei cuscini non si può allora questa è la mia antenna una canna di bambù con un filo elettrico lungo due metri e 62 con un radiale che ora ve lo faccio vedere eccolo qua il radiale ci sarà circa 110 115 gradi forse così lo vedete meglio quello lì e radiale inclinato in quella maniera tipo boomerang e tanto per capirci e anche lui lungo due metri e 62 ecco qua questa è tutta la stazione questo invece è un restauro che sto facendo l'hanno buttato nella rumenta al poverino un cavalino così c'è un'orecchia rotta che ora gliela ricostruisco e diventerà il cavallino di troia cavallino di troia mi piace sto cavallino di troia bene raga 73 51 come si dice in gergo statemi bene e viva la vita